bella ragazzi benvenuti sul mio canale io sono timo play oggi siamo di nuovo insieme per parlare del nuovo videogioco calcistico in arrivo ufl avete letto bene nel titolo per la prima volta ragazzi sullo store ufficiale playstation è presente ufl è presente in una pagina chiaramente sezione giochi in arrivo annunciati e in questa pagina appunto ci sta una descrizione del gioco ma soprattutto qual è la cosa importante che questa pagina testimonia il fatto che effettivamente il gioco sta arrivando ecco qui la pagina di ufl sul playstation store ufficiale ragazzi data chiaramente da stabilire ma vi assicuro che se è presente la pagina di ufl se è stata inserita oggi la pagina di ufl è perché il gioco sta arrivando tra l'altro grazie al buon alebegno86 che saluto ragazzi passate anche dal suo canale trovate il link in descrizione sappiamo perché ha parlato con il CEO della strikers eugen nashilov sappiamo che appunto la beta la closet beta ovvero la beta porte chiuse verrà rilasciata questo mese nel mese di ottobre quindi a meno che non cambiano idea poi ci sarà la open beta quella a porte aperte dedicata a tutti quanti che sarà probabilmente disponibile proprio nello store e dopodiché secondo me entro la fine dell'anno questa è una mia opinione ma visto che c'è anche la pagina appena inserita potrebbe fortemente essere così secondo me mia opinione entro la fine dell'anno arriverà questo videogioco quindi ragazzi è una cosa una notizia certamente positiva ti diamo il benvenuto di ufl il rivoluzionario gioco di calcio con un metagioco ricco e radicato in profondità nei valori del gioco accendi la tua passione per lo sport come mai prima d'ora crea il tuo club da zero metti insieme una squadra di veri calciatori personalizza la seconda la tua idea stagione dopo stagione crea un'eredità forte padroneggia il campo virtuale con giocate realistiche una raffinatezza tattica elettrizzante leali sfide online vibranti di emozioni competi con altri giocatori da tutto il mondo e scala la classifica per ottenere l'importante titolo di campione di ufl funzionalità principali un gameplay stimolante ma familiare cioè sarà simile chiaramente a tutte e due videogiochi secondo me un po a pesce un po a fifa la giocabilità secondo me basato sulle abilità ufl crea un'esperienza calcistica immersiva e rivoluzionaria priva di assurdità cioè sta dicendo che non c'è lo script mostra la tua bravura in una sfida leale priva di scorciatoie sta dicendo sempre che non c'è lo script rimani fedele a te stesso e mostra le abilità calcistiche in un mondo dove ogni partita è una sfida universo calcistico dinamico crea il tuo club con calciatori reali partecipa elettrizzanti incontri online contro giocatori da tutto il mondo con abbondanti risorse e una fantastica collezione di oggetti per il club gestione strategica con un impatto a lungo termine metti alla prova il tuo pensiero tattico mentre gestisci effi efficientemente efficientemente il tuo club forma la tua fantastica squadra da zero pianifica e recluta attentamente per far sì che ogni mossa gestionale abbia importanza progressi illimitati infinito potenziale prova la tua prova la continua evoluzione di ufl qui il tuo percorso verso la grandezza non conosce confini proprio come il gioco stesso unisciti alla file alle fila di ufl e scopri la gioia di una competizione calcistica leale e basata sulle abilità scusate se mi sono ingarbugliato qualche volta ma è un video improvviso sono anche abbastanza stanco e quindi ragazzi questo è quanto diciamo il gioco sta arrivando è ufficiale il gioco è vero che sta arrivando perché altrimenti non avrebbero assolutamente messo questa pagina nello store ufficiale fatemi sapere chiaramente nei commenti che ne pensate secondo voi che significa questo inserimento nello store ufficiale anche per voi il gioco sta per arrivare parentesi abbiamo la certezza quanto meno che a ottobre ci sarà la closet beta quindi questo è sicuro vi aspetto numerosi nei commenti come sempre vi ringrazio per essere stati mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video un abbraccio un saluto dal vostro simo play bella ragazzi